Oggi si parte, le amichevoli di Auronzo Ricatore, Marco Grimi le conosce perché l'ha già giocato con la Trestina, anche se tu hai ancora un gap da dover scontare, no? Eh sì, intanto ci godiamo questa amichevole che sicuramente è molto prestigiosa e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Sì, sarà complicato però ce la metteremo tutta, anche se è la prima. Amichevoli come queste sicuramente, come dicevi, certamente sono di prestigio, aiutano anche a capire i primi tre giorni a che punto si è o sono così più un discorso di vetrina? Dopo i primi tre giorni si vede poco, secondo me è più una questione mentale di approccio e dovremo lavorare su quello, che giustamente fisicamente, visti i carichi di lavoro che stiamo affrontando, non saremo brillantissimi, quindi sarà più una questione mentale, secondo me. Che trapani stanno scendo? Ma stiamo crescendo anche perché ci sono tanti ragazzi nuovi, quindi ci stiamo imparando a conoscere, bene. Gruppo molto sano, molto coeso, mi sembra, dove oltretutto si scherza anche molto poco perché si lavora tanto. Diciamo che ci sono pochi tempi per scherzare, però sì, molto coeso. Senti, sono appena usciti i calendari, si parte da Foggia. Sì, è una trasferta difficile su un campo molto difficile, quindi dovremo partire subito forte e cercare di capire l'avversario come metterlo in difficoltà. Tu che detti sei fatto di questo girone? Da sempre è un girone complicato, a detta di tutti, perché dalla prima all'ultima non c'è una scontata, diciamo, che ai nastri di partenza possa avere la meglio o la peggio. Quindi sarà molto equilibrato e dovremo affrontarlo col coltello fredenti. Con l'esperienza che ha Marco Crimi di una storia, insomma, di qualche partita giocata a livello importante, questo Trapani sta mettendo le basi per raggiungere l'obiettivo che ben sa? Sì, stiamo lavorando per quello e lavoriamo ogni giorno per arrivare piano piano a quello che vogliamo.